Musica Ben trovati per la pagina sportiva del TG Noi che apriamo con il calcio con la Lucchese domani di scena sul campo del Romagna Centro. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta dell'andata per 2-1 anche perché la Correggese è sempre davanti. Sentiamo Guido Casotti. Uno degli nodi fondamentali nel lungo viaggio verso la promozione è il 4 maggio, data epilogo del campionato di Serie B. Quella di Cesena contro Romagna Centro è senza dubbio una gara importante per la Lucchese che è partita con un obiettivo ben preciso. Cercare la vittoria, tre punti per restare incollata col fiato sul collo alla capolista Correggese che presumibilmente farà un sol boccone del Forcoli nel classico testa-coda di Capannoli. Ma Luca la margherita ormai la sfogliata, quasi consumata, e gli rimane un solo petalo da incastonare nell'undici che calerà sul sintetico di Manuzzi, sostenuto da circa 200 tifosi appollaiati in curva nord. Gialdini a rinforzare la mediana, al posto del purvalido De Luca può essere questa la novità. Lucchese pertanto in campo con Casapieri tre pali, Petrini e specie Calissi e Terlino in difesa, Gialdini, Aliboni e Nolè in mediana, chianese trequartista, libero di agire alle spalle del tandem Pecchiori-Cavoni. Restituire pan per focaccia, così Pagliuca spera di vendicare, tra virgolette, la sconfitta patita al Porta Elisa nel match di andata dei bianco-azzuri romagnoli. Era l'8 settembre. La squadra di Filippo Medri si portò in vantaggio nel primo tempo e seppe poi resistere con tenacia al ritorno orgoglioso dei rossoneri. Anzi, nella ripresa, gli ospiti raddoppiarono e chiusero di fatto il match. Platonico, al 92esimo, il gol di Matteo Nolè, per quello che fu il primo di ben sette sigilli finora timbrati dal forte centrocampista di San Mignato. E adesso il viareggio, le zebre ci credono contro una nocerina deconcentrata. Forse dalle questioni extra calcio la vittoria in trasferta è possibile. Sentiamo Roel Eppure. La vigilia della gara con la nocerina in programma domani al San Francesco è stata caratterizzata dall'arresto del presidente della società campana nell'ambito di una inchiesta che ha visto 136 persone indagate con il 42% del capitale sociale del club sequestrato dalla Guardia di Finanza. La squadra bianconera è partita alla volta di nocera inferiore con la consapevolezza che dovrà cercare di disputare una partita al massimo se vorrà uscire indenne da questo confronto. La nocerina occupa infatti l'ultima posizione in classifica insieme alla Paganese che non è veritiera per i valori tecnici. Tra le file dei campani c'è anche il viareggio Lorenzo Remedi. All'andata finì 1-1 dopo che segnò pizza nel primo tempo, pareggio di malcore nella ripresa. Mancherà nelle zebre Falasco per squalifica ma è rientrato la morte mentre Peverelli in partenza per essere ceduto è infortunato. Ma non al meglio c'è Celiento e Romeo che se non ce la dovesse fare verrà sostituito da Benedetti. La probabile formazione vede Gazzoli Frepali, Marongiu, La Morpe, Consonna e Ferrari in difesa, Pizza Galassi, Gerevini a centrocampo, Rosafio, Benedetti o Romeo e Vannucchi in attacco. Tra le note positive per le zebre ci sono gli 11 punti conquistati con la gestione di mister Lucarelli che si spera vengono incrementati anche dopo questa trasferta. Intanto le zebre nella classifica per la Coppa Disciplina stilata dalla Lega Pro sono al quarto posto. Sullo fronte mercato sempre più insistenti i nomi che vengono accostati alla via reggio del difensore Nicolao e del centrocampista Mungo del Perugia. Intanto nell'anticipo del campionato il Frosinone ha battuto il Pisa 1-0 e balza in testa la classifica. E questa mattina i bianconeri hanno ricevuto la gradita visita del tecnico campione del mondo Marcello Lippi. Lippi lo vediamo in questa foto, ha parlato un po' con mister Lucarelli e ha osservato l'ultimo allenamento prima della partenza per Nocera. Lippi era accompagnato dallo stilista Massimo Rebecchi e dal vicepresidente del viareggio Mirko Lippi. E sempre a proposito delle zebre, la formazione Berretti è stata sconfitta dal tutto cuoio in trasferta per 4-1. La rete bianconera è stata siglata da Pellegrini. A proposito di giovani, parliamo dell'Oscar del Talento, il referendum promosso dalla Nazione e Noi TV. Siamo andati alla scoperta di uno dei ragazzi primi in classifica. 14 anni, sinistro naturale, un sogno nel cassetto, diventare un calciatore professionista. Si chiama Filippo Galli, il vincitore della classifica d'inverno dell'Oscar del Talento, categoria giovanissimi. Filippo gioca da tre anni nell'Atletico Lucca e con la maglia della storica società lucchese si sta mettendo in evidenza nella squadra del 99 allenata da Renato Roffi. Grazie al primo posto ottenuto nella classifica d'inverno del referendum promosso dalla Nazione e Noi TV, Filippo ha vinto due biglietti e il viaggio in pullman per la partita Juve-Samp in programma sabato prossimo a Torino. Ti aspettavi questo successo, tutti questi tagliandi? No, sinceramente no. Non sapevo nulla di queste cose. Ma secondo te chi ti vota? So che mi votano delle persone in Garfagnana, a scuola del mio padre, però non so altro. Senti, parliamo un po' invece di te. Che cosa sogni per la tua carriera? Classe 99, giochi in Atletico Lucca. Che cosa sogni da grande? Di fare il calciatore professionista? Eh sì, penso come ogni bambino di giocare in Serie A. In che squadra in particolare? Nel Milan, io tipo Milan. Non ti ho chiesto nulla del ruolo. Giochi terzino-sinistro? È questo il ruolo che ti piace di più? Sì, gioco terzino-sinistro, però mi piacerebbe anche giocare più avanti, però mi accontento. Segni ogni tanto? Qualche volta sì. Come? In inserimenti, basta. Colpo di testa? Poco, poco. Perché a saltare i calci d'angoli non ci vado. La sua squadra sta andando molto bene e sta lottando punto punto con la Lucchese per la vittoria del campionato. Ma noi eravamo partiti, diciamo, con un po' di preoccupazione perché erano andati via diversi ragazzi alla Fortis. Invece, piano piano, siamo riusciti a creare un buon gruppo dove mi sto levando delle soddisfazioni. Il discorso che siamo a un punto della Lucchese è relativo perché credo che la Lucchese sia molto superiore a noi. però noi ci accontentiamo anche del secondo posto e speriamo perché ora inizia il girone del ritorno e poi dovremo incontrare la Lucchese e altre squadre che sarà un po' dura. E vi ricordo che l'Oscar del talento va avanti e ogni giorno potete trovare i tagliandi pubblicati sul quotidiano La Nazione. Vediamo nel dettaglio chi ha vinto i due biglietti per assistere a Juventus Sampdoria più il viaggio in pullman offerto da Santini Viaggi di Lucca. E Castelnuovo nella categoria Juniores, Mattia Tortelli del Fornaci di Barga, Filippo Galli, come detto, dell'Atletico Lucca, fra i giovanissimi, Samuele Bacchini della Lucchese fra gli esordienti e Tommaso Cecilia, anche lui della Lucchese, per la scuola calcio. E adesso vediamo i risultati della quindicesima giornata di terza categoria. Partiamo dal girone A, Atletico Forte dei Marmi, Retignano 0-0, Lidio di Camagliore, Ninfiatore Laghese 5-2, Montagna, Sravezzina, Sporting, Forte dei Marmi 1-2, Pian del Quercione, Corsanico 0-2, Pian di Conca, Pian di Momio 3-1, San Macario e Bozzano 3-2, Unione Chiesa, Don Bosco 3-2, Versilia, Vado e il Posticipo. In testa la classifica Il-Versilia con 37 punti, Unione Chiesa 34, Pian di Momio 33, Poi Corsanico 27, seguono tutte le altre, chiudono Montagna, Sravezzina 8, Bozzano 0 punti. Nel girone B, Atletico Gragnano, Atletico Lucca 0-1, Capannori, Ponte Cosi 1-3, Gallicano, Lucca 7-2-0, Piazza Alcerchio, Silicagnana 0-2, Ponte Amoriano San Lorenzo 2-0, Sant'Anna Molazzana 2-1, Valdottavo, Segrominio 0-5, Virtus Robur San Vito 0-0, Silicagnana 38 punti, Atletico Lucca 31, Gallicano 29, Ponte Cosi 28, Segrominio 26, e poi via via tutte le altre, chiude la classifica, la Virtus Robur, con 5 punti. Riparte con una vittoria, parliamo di basket, il girone di ritorno dello Junior Lucca, che interrompe la striscia di 5 successi consecutivi del basket, Ponzacco, i biancorossi di Coach Corda, si impongono in trasferta, 66 a 56. E per finire, una bella notizia di ciclismo, l'ottimo esordio di Francesco Chicchi, nella Vuelta Taquera, in Venezuela, il ciclista di Camaiore, ha chiuso al terzo posto, la prima tappa, vinta da un altro italiano, ovvero Rino Gasparrini. Chiudiamo qua, la pagina sportiva del TG Noi, la pubblicità, e poi ancora insieme, per la terza parte.